La nostra lotta non si ferma perché abbiamo ragione. Io mi sono rotta nelle domande sugli scontri e da Genova che le nostre ragioni vengono fermate e trattate come consiglio di ordine pubblico. Compagni, la lotta continua perché abbiamo ragione. Abbiamo ragione a Genova e abbiamo ragione oggi a essere qui. Compagni e compagnie, io voglio ringraziarvi perché avete figliato ogni futuro sulla necessità di essere qui oggi. E' importante esserci e avevo ragione a dire che c'erano l'Esto. Quando Bonanno l'altro giorno come Cacchi mi chiamò, mi ha detto che io dovevo andare in lì sulla recetta. Mi ha detto che i maroni, che i maroni che mi chiamano, i maroni che mi chiamano, i maroni che mi chiamano. E siamo tre grandi trovatori dell'Esto. Io ho pensato, poveraccio, poveraccio uno, che non ha i compagni e le compagnie che mi spiegano veramente come stanno le cose. Ora stiamo cercando di capire se possiamo uscire da questo lato nel fronteo, se possiamo evitare di invatterci. Tanto gli attivoli che stiamo sperando là davanti. In ogni caso, contagno e contagno, si parte e si torna insieme. Passa la vittoria! Passa la vittoria! Passa la vittoria! Passa la vittoria! Ora e sempre! Ora e sempre! Ora e sempre! C'è un'Europa che è un'Europa che è un'Europa senza rassismo. E' un'Europa che è un sfruttamento del lavoro. E' un'Europa dove siamo tutti uguali e tutte libere e liberi di essere diversi. Cari compagni, proud to be different from Matteo Salvini. Proud di essere qui alla No. Ecco di essere alla nostra Main Day. Passa la vittoria! Passa la vittoria! Passa la vittoria! Passa la vittoria! E' un'Europa che è rinforza. Bandiera rossa, la triompherà! Bandiera rossa, la triompherà! Bandiera rossa, la triompherà! Bandiera rossa, la triompherà! E viva il comunismo e la libertà! Mi confesso, sono comunista e stonata! Asta la vittoria compagni e compagni!